e siamo su deante ragazzi sta nevicando sono le 5 di mattina e siamo a caccia di renne e siamo in tema e caprioli ragazzi quindi nuove specie come viene ok ci troviamo volpi che teoricamente con questo posso prenderlo con la volpe ecco richiamo dell'arena fantastico ed ecco il richiamo del caprioleo ma di sto gioco ho visto tante critiche su steam perché è un free to play alla fine a pagamento però fiozza se non è a pagamento sto gioco non è nessuno perché è veramente un simulatore con i contro cioè io ve l'ho sempre detto ragazzi questo forse il più bel gioco uno dei più bei giochi in assoluto ce ne sono tanti altri però sulla caccia sicuramente il top del top del top mettiamo un indicatore voglio andare verso di cuore ok vediamo se qualcuno mi risponde cinque di mattina ragazzi potrei trovare qualche bestione secondo me chiaramente non penso le avere skills su renne e caprioli perché sono se erano le alci ma renne caprioli mi sembra che sono nuovi non li ho mai affrontati ci sono anche volpi rossi comunque che in caso se ne incontriamo uno al nostro cammino ce la ce la ce la prendiamo guarda come nevica ragazzi e guardate la grafica di questo gioco c'è anche il temporale speriamo bene coglione sempre quando registro non c'è nessuno dai ragazzi il capriolo è qua vicino devo stare molto attenti perché non siamo in una posizione vantaggiosa siamo in salita quindi e lui ci può vedere prima la neve non nevica più praticamente ragazzi e adesso serve la concentrazione massimale come indiana bisogna fare un bel po di colpi precisi perché dopo l'errore della volpe le mie statistiche sono andate eccolo là l'ho visto l'ho visto forse non posso fare sti errori però no merda ho sbagliato brutto errore era un albero curioso si è un po' spostato eh rischio di perderlo sono troppo in bocca perso eccolo là eccolo là ragazze qua eh l'ho perso non era niente di che era una una femmina però perso malamente la sfiga ce l'abbiamo proprio qua qua rischio eh fioi qua stiamo rischiando di perderne un altro perché non mi sembra lo stesso ci saranno molte possibilità perché mi vede a mio parere dobbiamo girare intorno piano come piano passi non ne sento devo mettermi qua e sperare che non sia davanti a me se non è finita se mi vede so cazzi dove sei merda qua bene merda è proprio qua è malissimo che sia qua ragazzi perché mi può vedere subito sento i passi sono fottuto se non lo vedo prima io ma porca puttana è probabile che sia già andato via eh io cristo che sfiga o al 90 per cento è andato dai stronzo è ancora qua ma dov'è dove sei figlio di puttana tensione altissimo ragazzi eccolo qua non potevo sbagliarlo yes è arrivato è arrivato è arrivato polmoni e cuore sorry boss eccolo qua polmone destro scapola 26 kg cazzo proprio proprio piccino mi dispiace ma è solo un gioco lo ricordo ragazzi c'è un alce qua vicino non è l'arena che volevamo però c'è un alce e non capisco però non so se è maschio o femmina perché non ho ancora l'esperienza giusta per capirlo perché più forte sono più ne ho più ne catturo più bravo divento la durissima perché non ho neanche il senatore delle alce ma quello delle renne fuck off fuck off se è maschio o poi se è ancora più forte perché le femmine e i cuccioli sono più curiosi e ti vengono incontro mentre i maschi sono sospettosi vediamo vediamo qualcosa siamo in una posizione molto brutta peggio non poteva essere vediamo se può incuriosirlo questo rumore di renne però non ho l'alce purtroppo non l'ho portata via proprio qua devo andare per forza in cima è l'unica chance che ho speriamo non sia proprio qua cosa quel duro puoi stare anche ore senza trovare niente che non ho richiamo purtroppo però stare in silenzio e sentire se ne fa un altro speriamo è qua la sento la sento eccola qua yes siamo anche fortunati in 47 minuti in 47 minuti mi ha preso due animali eccola qua alce 432 kg femmina osso del collo ciao osso del collo cos'è trophy shot ah ok no 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 very good ragazzi è andata abbastanza bene questa battuta di caccia la possiamo chiudere qua che non voglio fare troppe vittime anche se gioco e niente raga un saluto nel commentone veneziano nel prossimo video vediamo di tentare veramente il primo big one quindi sarà chiaramente una battuta di caccia molto più lunga perché ora che arriva un big one deve avere un culo clamoroso e speriamo ritrovare magari un cervo con le corna un bel maschione da da trofeo raga un saluto nel comandone cacciatore veneziano ciao ciao